Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo tanto atteso lunedì 24 ottobre. Di cosa vi voglio parlare in questo video? Dell'apertura della lista di attesa della sfida dei 28 giorni. Cos'è la sfida dei 28 giorni? È un protocollo di 4 settimane che vi garantirà la possibilità di perdere i primi 4-5 kg. Perché vi parlo con così tanta convinzione? È un protocollo che è già stato lanciato in aprile e che ha visto centinaia di persone che hanno fatto questo protocollo e hanno ottenuto un successo ben oltre le aspettative che io ho promesso. Nei prossimi giorni posterò le tantissime testimonianze di queste persone che hanno trovato nel protocollo dei 28 giorni la strada per iniziare il loro processo di cambiamento. Come è strutturato la sfida dei 28 giorni? Sono 4 settimane alimentari, una diversa dall'altra, con una ciclizzazione, con una cadenza, con una strategia alimentare diversa una settimana dall'altra per dare la possibilità al vostro corpo di entrare in una modalità brucia grassi e di riuscire a farvi perdere questi primi 4-5 kg. Perché parlo di primi 4-5 kg? Perché ovviamente è un protocollo diciamo che può essere adottato o deve essere adottato da tutte le persone che vogliono iniziare un cambiamento. Potrà essere un protocollo definitivo per quelle persone che devono perdere qualche chilo. Potrà essere l'inizio di un reale cambiamento che poi vedrà l'acquisizione di altre strategie successive per chi deve perdere 10, 15, 20 o 30 kg. È semplice, è facile, non bisogna pesare gli alimenti, si mangia a sazietà, si varia l'alimentazione, non bisogna comprare integratori, pasti sostitutivi, non bisogna contare le chilocalorie, non bisogna fare le percentuali dei macronutrienti. È un modello di stile di vita sulla base dei miei protocolli personalizzati. È un esempio di quello che eventualmente potrete trovare all'interno dei miei percorsi personalizzati nel caso in cui la sfida dei 28 giorni vi possa piacere e vi dia i risultati che io vi assicuro otterrete se la seguirete esattamente alla perfezione. Cosa troverete all'interno della sfida dei 28 giorni oltre al protocollo d'attacco di 4 settimane? Troverete una programmazione anche per i vegetariani e per i vegani, quindi con un protocollo parallelo che preveda un'alimentazione specifica anche per i vegetariani e per i vegani. Un altro bonus è quello di avere un file Q&A, cioè oltre al protocollo avrete un file aggiuntivo in cui ci sono tutte le risposte a qualunque tipo di domanda inerente al protocollo. Potete sostituire quest'alimento invece di quest'altro, il sale, quanto utilizzarlo, come utilizzarlo, l'aceto di mele, l'aceto di vino, l'aceto balsamico e tantissime altre domande che potrete avere in mente e che troveranno una risposta nel file Q&A. In più troverete una mia video lezione nella quale vi spiego come deve essere interpretato il protocollo, come dovete gestire le settimane, come dovete iniziare, come monitorare tutto il cammino fino alla fine delle quattro settimane. Questo è quello che avrete all'interno della sfida dei 28 giorni. Faccio subito però un breve disclaimer. Non è un prodotto fisico che vi arriva a casa, è un prodotto che potete acquistare dalla piattaforma, che quindi è un prodotto digitale. Voi nel momento in cui deciderete di acquistare questo protocollo, dopo aver fatto l'acquisto riceverete un'email nella quale vi verranno forniti la username e la password per accedere alla piattaforma. Avrete sei ore di tempo per cambiare la password che per ragione di sicurezza è provvisoria. Nel momento in cui avrete cambiato la password, memorizzate username e password che vi serviranno a vita per poter accedere e quindi visualizzare tutte le volte che vorrete il mio video e potrete scaricare i file del protocollo d'attacco e del file Q&A. È possibile acquistarlo pagando con carta di credito, con Paypal. Sono tutte informazioni che troverete nel momento in cui deciderete di acquistarlo. Perché parliamo di lista di attesa che abbiamo aperto oggi? Perché in realtà le vendite ufficiali di questo protocollo d'attacco avverranno lunedì 31 ottobre alle ore 21 durante una diretta che terrò per spiegare ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, le caratteristiche di questo protocollo e per in qualche modo dare il via alle vendite. Chi di voi manifesterà interesse senza dover pagare niente? È oggetto sfida 28 giorni. Vorrei essere inserito nella lista d'attesa. Cosa faremo noi lunedì 31 ottobre? Invieremo il link prima alle persone che hanno manifestato interesse all'acquisto di questo protocollo e poi apriremo le vendite ufficiali. Così come è accaduto per la pelle perfetta, centinaia di persone sono rimaste fuori perché non sono state veloci a comprare il percorso durante la settimana di lancio. Siccome non ne abbiamo infiniti, perché comunque vogliamo dare la possibilità a tantissime persone, ma siete in centinaia di migliaia a richiederlo, non possiamo intasare la piattaforma. Quindi da oggi fino a lunedì della prossima settimana avete la possibilità di mettervi in lista di attesa e sarete garantiti di acquistare il protocollo sfida dei 28 giorni. Chi non lo farà potrà partecipare all'acquisto da lunedì 31 di ottobre alle ore 21 durante la diretta. Quanto costa tutto questo popò di roba? Solo 49 euro. È un prezzo veramente incredibile, soprattutto se lo paragoniamo ai miei percorsi personalizzati, soprattutto se lo paragoniamo alle mie consulenze. È un modo per farvi capire che potenza abbiamo, quanto sono efficaci i nostri protocolli e per dare la possibilità a tutti per soli 49 euro di avere in mano una pistola che può veramente iniziare a farvi cambiare. Chi deve comprare questo protocollo. Chiunque voglia perdere peso, chiunque ha fasi altalenanti della sua vita, periodo in cui è in sovrappeso, periodo in cui dimagrisce, può essere veramente il jolly da tenere nel cassetto nel momento in cui, ad esempio, con le imminenti festività natalizie vi lascerete andare e quindi a gennaio avete nel cassetto una pistola pronta per esplodere e farvi demolire tutto il grasso che avrete accumulato. Quindi, ribadisco, sfida dei 28 giorni, 4 settimane che ti garantiscono di perdere i primi 4 o 5 chili a soli 49 euro. Se siete interessati all'acquisto inviate un'email a info-claudiomanzone.com con oggetto sfida 28 giorni, sono interessato all'acquisto. Manderemo prima il link a queste persone e poi apriremo le vendite ufficiali. Vi aspetto.